In America viene commesso un furto ogni 11 secondi, un'aggressione ogni 65 secondi, un reato di sangue ogni 25 secondi, un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno. Un'aggressione ogni 6 secondi, 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 Dai, per favore. No, adesso basta. Ma perché ammucchi la roba così? Che pizza che sei. È il poliziotto dei casi impossibili. Tu sei il male e io sono la cura. È un duro, è l'uomo delle emergenze. Chiamo il Cobra. Detestato per i suoi metodi. Temibile. Implacabile. Io vado a passo per la conversazione. Per il ciclo I Duri di Rete 4. Sylvester Stallone. Cobra. Sabato 21 e 20. Sì. 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 Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. E 250 violenze carnale al giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.